la regina manda a domandar bertoldo al re perché lo vuol vedere mentre ragionavano così familiarmente il re e bertoldo giunse un messo da parte della regina il qual disse al re come la regina desiderasse di vedere bertoldo pregando sua maestà a mandarglielo e poi che ella aveva inteso che costui si pigliava a spasso di burlar le donne aveva fatto pensiero di farlo bastonare ben bene onde il re udito la dimanda della regina volto a bertoldo gli disse la regina ha mandato a domandarti ecco il messo il qual è venuto apposta che ella brama di vederti tanto per male quanto per bene si portano le ambasciate la coscienza sempre rimorde l'uomo tristo il riso della corte non si confà con quello della villa l'innocente passa libero fra le bombarde la donna irata la fiamma impicciata e la padella forata sono di gran danno in casa spesso interviene all'uomo tristo proprio quel che i teme il gambaro spesse volte salta fuori dalla padella per salvarsi e si trova nelle brage chi semina iniquità raccoglie dei mali sotto la scuffia bianca spesso vista la tignascosa chi ha intricato la tela la destriga mal si può destrigare quando i capi sono avviluppati chi semina le spine non vada senza scarpe non si può combattere contro i più forti di sé non temere che alcun ti faccia oltraggio al buon confortator tornando a lei capo temi tu forsi che la regina ti facci dispiacere donna iraconda mar senza sponda la regina è tutta piacevole e brama di vederti perciò va via allegramente e non dubitare in ultimo se ne dirà e tale ride che piangerà così bertoldo fu condotto dalla regina la quale avendo inteso come vi dissi la burla fatta a quelle donne il giorno innanzi aveva fatto preparare al quanti bastoni e commesso alle sue donne che serratolo in una camera gli sbattessero ben bene la polvere di sul mantello e subito che salovide mirando quel mostruoso aspetto tutta sdegnata disse oh mira che ceffo di babuino il la reggio grida dietro la padella beh e come ti addimandi tu oh io non domando nulla come ti chiami intendo chi mi chiama io gli rispondo dico come tutta pelli io non mi sono mai perato che io mi ricorda mentre che la regina interrogava bertoldo una delle serve portò di nascosto un vaso pieno d'acqua per farli batter dentro il sedere ma il villano astuto accortosi di ciò stava molto ben avvertito e subito pensò una nuova astuzia seguitando pur la regina il suo parlare come fai tu tante astuzie che tu pari un indovino ogni volta che mi viene ad acquato il sedere io indovino ogni cosa e so se una donna fa l'amore e se ella ha mai fatto errore con alcuno e se la è casta ovvero impudica e insomma io indovino ogni cosa e se vi fosse chi mi volesse bagnare il di dietro io vi saprei dire ogni cosa adesso adesso allora quella serva che aveva portato il secchio con l'acqua per bagnarlo udendo tal parola lo portò via pian piano per sospetto di non essere scoperta di qualche sua macchia ne ve ne fu alcuna che ardisse di fargli scherzo alcuno perché tutte avevano come si sol dire qualche straccio imbucato ma la regina che ardeva di sdegno contro di costui impose che esse pigliassero un bastone per ciasche d'una in mano e lo bastonassero per bene ondesse gli si avventarono addosso con maggior impeto che non fecero le furiose baccanti addosso al misero orfeo onde vedendosi il povero bertoldo in così gran pericolo ricorse di nuovo all'usata astuzia e rivolto a loro così disse quella di voi che ha trattato di avvelenare il re alla mensa quella sia la prima a pigliare il legno e a percuotermi che io mi contento allora tutte si incominciarono a guardare l'una con l'altra dicendo io non ho mai pensato di far questo neanche io rispondeva l'altra e così di mano in mano risposero tutte e persino la regina a tal che esse tornarono i bastoni al suo luogo e il sagacissimo e buon bertoldo restò illeso da quelle aspre percosse almeno per allora la regina che tuttavia ardeva di sdegno contra bertoldo e volendo per ogni modo che ei fosse bastonato mandò a dire alle sue guardie che nell'uscir fuora lo bastenassero senza remissione alcuna e lo fece accompagnare a quattro dei suoi servitori i quali poi li portassero la nuova di tutto quanto era successo quando bertoldo vidde che in modo alcuno non la poteva fuggire ricorse all'usato giudizio e volto alla regina disse poi che io veggio chiaramente che pur tu vuoi che io sia bastonato fammi questa grazia ti prego in cortesia che la domanda è onesta e la puoi fare in ogni modo a te non importa pur chi io sia bastonato via questi tuoi che mi vengono ad accompagnare che dicano alle guardie che portino almeno rispetto al capo e che menino poi il resto alla peggio la regina non intendendo la metafora comandò a coloro che dicessero alle guardie che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio alla peggio che sapevano e così costoro con bertoldo innanzi si inviarono verso le guardie le quali avevano di già i legni in mano per servirlo della buona fata onde bertoldo incominciò a camminare innanzi agli altri di buon passo sicché era discosto da loro un buon tratto di mano quando coloro che l'accompagnavano viddero le guardie all'ordine per il fatto ed essendo ormai bertoldo arrivato da quelle cominciarono da discosto a gridare che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio perché così aveva ordinato la regina le guardie vedendo bertoldo innanzi agli altri pensando che esso fosse il capo di tutti lo lasciarono passare senza fargli offesa alcuna e quando giunsero i servi gli cominciarono a tempestare di maniera con quei bastoni che gli rupperò le braccia e la testa e insomma non vi fu un membro né osso che non avesse la sua ricercata di bastone si tutti i pesti e fracassati tornarono alla regina la quale ce l'ho lo che la via aspettando una nuova occasione facendo tanto di medicare i servi i quali come vi dissi erano stati acconci per le feste come si suol dire